Anni fa un lavoro proprio di riorganizzazione del collegio, di questo organo di formazione e va dalla formazione tecnica all'Ampicata, all'Arcio, all'alta montagna, allo sciatimismo centrati sulle regioni dell'arco alpino, però poi l'Italia, con formazione d'Italia non tuoso dei palacenti, per cui abbiamo una presenza anche molto importante nel vostro Temini, Fini, Sicilia. Di fatto sono 14 collegi regionali, quindi è un ordine professionale regolabilitato da una legge che istituisce l'ordine. Dobbiamo sostanzialmente avere come obiettivo principale la tela dell'incolumità delle persone che si affidano. Proprio per entrare a far parte di questo collegio, di questo ordine, c'è necessità di avere dei requisiti che sono anche abbastanza stringenti, no? Sì, sì, abbiamo una formazione professionale molto severa, insomma. Ci sono tante cose, tante idee, no? Sicuramente anche il Presidente o Marco ne avranno altre tante. Adesso appena ci vediamo con... Sì, sì, ma scusate per le domande che vi faccio. Sono domande generali che servono anche per sviluppare la curiosità e quindi tentare di non entrare in percorsi, insomma, in vicoli sceli. Quando c'è la possibilità di fare queste... di usufruire queste collaborazioni bisogna tentarti spaziare il più possibile. Quindi, beh, insomma, sono veramente contento di questa collaborazione e quindi è importante finalizzarla, ecco, la collaborazione. Grazie, grazie ancora di questa collaborazione e spero che sia molto, molto fruttuosa, insomma, che si arrivi a delle cose interessanti. Certamente. Grazie. Grazie.